Oggi con grande entusiasmo parte la campagna elettorale in tutta Italia della CGL. A mezzogiorno abbiamo liberato i palloncini perché questo ha un significato ovviamente. Con il referendum noi vogliamo liberare l'Italia dai voucher, dallo sfruttamento, dalla precarietà, dalla disoccupazione. Inizia il nostro tour per la campagna elettorale sui referendum e sarà un tour molto impegnativo ma anche molto entusiasmante. Come c'era tanto entusiasmo e tante persone quest'oggi e con questo entusiasmo noi proveremo ovviamente a vincere il referendum. Ma sono sicuro che se l'Italia capirà il referendum saremo in grado di poterli vincere. Voi andrete avanti comunque anche se sembra che il governo si sia impegnato a modificare la legge? Assolutamente sì perché per quanto ci riguarda i voucher sono uno strumento malato che va assolutamente cancellato. Così come noi insistiamo per il ripristino della responsabilità solidale negli appalti perché in questi anni di crisi economica soprattutto molto spesso appalti hanno significato sfruttamento. Cioè sui lavoratori degli appalti, sugli ultimi si sono scaricate tutte le difficoltà del sistema. E per questo noi riteniamo che la situazione oggi vada cambiata. Noi vogliamo cambiare l'Italia, vogliamo cambiare il mondo del lavoro, vogliamo per l'appunto liberare il lavoro così come metaforicamente abbiamo fatto con i nostri palloncini questa mattina in tutta Italia. Non ci fermeremo anche se il governo ci convocherà, noi ovviamente ascolteremo quelle che sono le proposte che verranno dal governo ma siamo assolutamente convinti della nostra battaglia e pertanto oggi inizia a prescindere la campagna elettorale che culminerà con il voto ai referendum quando ovviamente il governo si degnerà di fissare una data.